3-0 al Prato e 5-1 alla Pro Livorno. Chi avesse avuto dubbi sulla forza dell'Aglianese è servito perché nelle ultime due partite i Neroverdi hanno dato una grande prova di forza, prima in cassa dei Lanieri e poi sul proprio campo, contro la seconda in classifica. Un 5-1 netto, frutto di un primo tempo in cui gli uomini di Colombini sono passati in vantaggio ed hanno gestito il ritorno degli ospiti e di una ripresa dominata, con un parziale di 3 reti a zero senza subire un tiro verso la porta di Ansaldi. E soprattutto la consapevolezza di avere una rosa che probabilmente non ha uguale nel girone. Segnano Capitan Brega e Coco nel primo tempo, segnano Russo e Giordani, per lui doppietta, nella ripresa, i due subentrati proprio a Coco e Bellazzini. Con 37 punti conquistati alla diciassettesima giornata e con una gara da recuperare, l'Aglianese è campione di inverno e mantiene 5 punti sulle inseguitrici, che sono la stessa Pro Livorno, che però ha giocato tutte le gare, ed il Fiorenzuola, che nell'ultimo turno ha battuto 3-0 il Sasso Marconi e come l'Aglianese deve recuperare una partita. Domenica la prima di ritorno, con un altro incontro casalingo, quando al Bellucci arriverà la Marignanese, tredicesima a 15 punti e che domenica ha pareggiato 2-2 sul campo del Rimini. La Pro Livorno, secondo me, è una squadra forte con giocatori importanti, quindi è normale che si soffra anche un attimo, l'importante è essere lì concentrati, come abbiamo fatto, abbiamo un pochino sofferto nel primo tempo, negli ultimi 20 minuti, però insomma una gara così è normale, poi il secondo tempo abbiamo sofferto poco o nulla, abbiamo fatto 3 gol e abbiamo portato a casa la vittoria. Fisicamente mi sono sempre sentito bene, quindi oggi penso di aver fatto una buona partita al di là del gol che è importante sia a livello personale ma soprattutto di squadra e alla fine poi è importante il risultato.